Amici, un saluto da Jetlon e Max, oggi andiamo avanti con Colly McCray Rally 2.0 e come sapete è un gioco dove il piazzamento è fondamentale, con qualsiasi errore è fatale e vi porta a essere eliminati. Come sapete questa bellissima macchina, proprio sistemata bene anche nonostante tutte le preparazioni che ho fatto, deve sopravvivere ancora un bel po' di tempo. Siamo messi in realtà molto bene. Siamo a Juensu e poi a Mikkel, che non è Mikkel Schumacher, ci siamo. Andiamo avanti con Rally Finlandia e io spero di riprendermi un po' perché è stato un po' un disastro la scorsa volta. Ero al primo posto, poi albero, poi vari casini vari, ma... 3, 2, 1. Ci sono anche stage che non ho mai fatto, sono nuovi della difficoltà intermedia. Ovviamente mi ha dato in tanti, ah ma anch'io venivo eliminato nel mondiale, proprio dalla difficoltà. E' un peccato sta cosa che non puoi godertela al 100% se non sei vincente. Questa cosa mi spiace perché per me perdere non è nulla di grammatica, ci sta, ci sta. Fa parte del gioco, eh, perché in realtà non può sempre essere il migliore, ma non dovresti essere buttato fuori dal mondiale. Almeno ho scelto da giocare lo stesso. Ma come va, va, io lo penso sempre così. Vedi che sono un nono posto, il primo posto è un nono. Semplicemente perché ho preso una curva l'alto. Un po' cattiva come cosa. Ok, andiamo a collezionare fiori anche oggi. Ok, andiamo avanti. Io come oggetto lo gioco per divertimento, non sono competitivo, non sono arrogante. Voglio soltanto divertirmi e farvi divertire. E il resto ci sono errori. Ah, vi accetto, fanno parte del gioco. A intermedia, non si scherza, devi già essere bravo, ma la sensibilità del controller è qualcosa di clamoroso. Probabilmente col controller play 1 sarebbe meno difficile, penso. La sensibilità è diversa, il mio buon suo acquato. È andata male questa, è andata molto male. Però non significa che verremo eliminati, anzi. Siamo al quinto posto. Finché siamo nei primi sei, non è game over. Scendi fuori nei primi sei, è game over. Ma non penso durante lo stage, ma dopo. Vediamo. Quindi dobbiamo mantenerci in top six per continuare. Mi è stato detto così. Al momento siamo quinti nel totale. Voglio credere che anche gli altri piloti possano fare errori. Ci voglio credere. 35, 30 salto. Mi piace la Mitsubishi. Sto facendo meno danni che nelle altre, come avete visto. Mi parte la ribaltata di prima. Onestamente penso che non sia stata così terribile. Oh, siamo al primo posto, dai. Buon incoraggiamento. Qua abbiamo un macchinone. Abbiamo un macchinone. Non c'è di stare attento. Forse ho esagerato con la velocità, ma non è così grave. Ok. Andiamo, andiamo. Poi bisogna rammentare un po'. Quando dice non tagliare, non bisogna tagliare. Adesso non lo dice. Ok. Ancora buona velocità. Forse un salto. Forse, eh. Perché può anche essere che magari non si salta. Infatti non si salta. Molto lungo. Ok. Siamo in vantaggio. Dai, dai, dai. che sta spintando bene. Oh, 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 no. Ok. Peccato qua. Stava andando così bene. Beh, siamo sempre i primi, nonostante tutto. Gioco. Quanto lungo, lungo, 4, 5, litri. Eh, ma c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nel senso che quei danni che aveva già da prima. Sbanda. Ok. Forse, forse. È ironico che siamo primi, ma siamo qui di capire. Ok. Ok. Siamo. Oh, abbiamo preso la prima. La capannina lì. Dai, che andiamo. Voglio prendere sul fango. Atta a punto. Fermi, fermi, non c'è più niente. Non c'è più niente. Ok. Il problema è la visuale che non si vede proprio perfettamente. Cosa c'è di là? Ho sbagliato, infatti. Meno male che non so solo. Sai, vuol dire che posso andare verso. Dosso. Se vedessi anche la strada sarei felicissimo. 50. Volto. 3. Sinistra. Non sarà il top della gamma, ma qualcosina stiamo facendo. Finisce. Tutto e dosso. Per l'uomo che dà il nome alla serie videogiochi. E sì. Mi piace, mi piace. Mi piace perché siamo andati bene. Io invito a lasciare un like al video. A supportare il video, il progetto, il canale. È veramente un grande contributo. È qualcosa di molto molto utile. Siamo al terzo posto, ho detto. E dobbiamo andare a sistemare la macchina perché è disastrata. È disastrata. Cioè, non riesco più a tenerla. Poi andremo a chemigiarvi e a Rovaniemi. Rovaniemi. Chi è che non conosce Rovaniemi? Allora. Cambio. È danneggiato. Turbo. Turbo danneggiato. Ecco. Sospensioni danneggiati. Differenziale ancora e ancora. Freni. Scocca. Oh mamma, la scocca. Spocca. Eh, la resistenza. Vabbè. Anche così comunque abbiamo dei danni pazzeschi. Sterzo. Solo 18 minuti per sistemare. Asse, beva un motore. È devastato. Possiamo sistemare gli assali. Ok. Per il resto, certe cose non le sistemeremo ma va meglio di niente. Io ripeto, stiamo sopravvivendo. È ciò che serve, no? Dunque faremo i prossimi stage. E saremo a metà. Siamo soltanto a metà della Finlandia. Siamo soltanto a metà. Oggi è stato un episodio breve, no? Perché, per esempio, erano molto brevi questi stage. E vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Speriamo appunto di riprendersi. Non c'è una classifica che puoi consultare. No, non c'è una classifica che puoi consultare. Però vi ringrazio. E ci vediamo dunque alla prossima. Dove appunto andremo avanti con questo rally intermedia. Visto il max intermedio. E speriamo in bene. Perché appunto la speranza è di superare il round. C'è tutta. Siamo al terzo posto. Dai. Bene, bene. Abbiamo fatto un pessimo inizio. Andiamo avanti alla prossima. Ciao ragazzi. Fatemi sapere se vi piace il progetto. Mi raccomando.